Buongiorno a tutti, siamo ad Areca, nel sud dell'Etiopia, regione Bollaita. Questo è il centro di accoglienza San Giovanni Paolo II, un centro di accoglienza per bambini con bisogni speciali che è stato costruito, è uno dei centri costruiti e gestiti dal centro aiuti per l'Etiopia di Roberto Rabattoni. Questo video messaggio è per farvi vedere come vengono utilizzati i vostri soldi, i soldi che ci offrite come donazioni. Venite con noi! Buongiorno a tutti! Quello che vedete è un grande orto con differenti culture che permette il sostentamento dei lavoranti, dei bambini e dei ragazzi che sono ospitati nel centro e degli ospiti esterni come noi. E' un piccolo paradiso. Purtroppo sappiamo che per ogni paradiso c'è un inferno. Il nostro lavoro di volontari è aiutare le persone a realizzare quanti più paradisi possibili che possano permettere a tutti una vita degna di essere vissute. Per non lasciare niente di sottointeso vi chiediamo di sostenere i progetti del centro aiuti per l'Etiopia con donazioni dirette o con il vostro lavoro da volontari per sensibilizzare quante più persone a questa reale opportunità di aiutare i nostri fratellini e sorelline. Ogni approfondimento lo potete riprendere tramite il sito www.centroaiutietiopia.it o sulla nostra pagina Facebook. Potete essere anche messi in contatto con un volontario della vostra zona per sapere cosa potete fare per aiutare questo angolo di mondo a camminare con le proprie gambe. Grazie. 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 Grazie.